Avete rubato la nostra dignità, la regione ci ha abbandonati, siamo dieci mesi senza stipendio, ridotti alla fame. Tutta la rabbia e la disperazione degli autisti dell'autolini e zanfini, ditta di trasporto locale di Acri, si è letta nei loro volti e nella loro voce. Hanno manifestato davanti alla sede di Palazzo degli Itali, esasperati per via degli accordi presi con la ditta e non rispettati. La zanfini infatti aveva assunto l'impegno ufficiale di erogare gli stipendi sia in occasione di una riunione in prefettura che nei tanti incontri tenuti al Dipartimento Trasporti della Regione Calabria. Si appellano all'assessore al lavoro Federica Roccisano e al governatore Mario Oliverio, reclamando il pagamento delle mensilità arretrate per una situazione che ritengono non più sostenibile. Non possiamo più mantenere le nostre famiglie, hanno aggiunto, ormai si tratta di sopravvivenza. Grazie.